Che è una bella giornata questa qua, che è una bella giornata questa qua Prepararsi all'emergenza maltempo senza panico e senza polemiche questo è l'invito del capo della protezione civile Gabrielli che ha annunciato l'arrivo tra domenica e lunedì di una precipitazione importante che porterà a eventi estremi da non sottovalutare Pierluigi, poi dici che uno pensa male E che cazzo è pronto?